Per te la scrittura? Allora, io scrivo per ragazzi, scrivo per bambini ed è diverso dallo scrivere per degli adulti perché io credo che la scrittura sia da una parte espressione e dall'altra sia comunicazione e credo che se questi sono i due piatti di una bilancia, quando si scrive per bambini bisogna spostare il tutto più fortemente verso la comunicazione perché quando scrivo per un bambino non posso mai prescindere dal mio lettore devo sapere se sto scrivendo per un bambino di 4, di 6, di 7 anni o di 9 perché cambiano completamente le cose che gli interessano, le cose che gli fanno ridere, i loro bisogni, le loro paure quindi anche nei momenti più ispirati lo scrittore per ragazzi deve avere sempre presente il suo lettore